Questa unità didattica inizia una serie di tre che costituiscono il modulo dedicato alla diagnosi. Diagnosi di guasti, diagnosi di malfunzionamenti, vedremo come la diagnosi viene affrontata nell'intelligenza artificiale. Però in particolare questa prima unità didattica di questa serie la vorrei spendere sul concetto di inferenza logica e vorrei cercare di illustrare in maniera il più intuitiva possibile le tre forme principali di inferenza logica che sono alla base dei ragionamenti umani e che l'intelligenza artificiale ha fatto propri. Fino adesso, da quando è iniziato questo corso, abbiamo sostanzialmente preso in considerazione un'unica forma di inferenza logica, la deduzione. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è basato sul concetto di deduzione. I sistemi formali da cui siamo partiti, il problem solving, la pianificazione che è un aspetto particolare di problem solving, tutte queste forme di ragionamento sono basate o riconducibili al concetto di deduzione logica. La deduzione, spesso confusa con l'inferenza logica, è abbastanza comprensibilmente confusa con l'inferenza logica, in quanto che rappresenta l'inferenza logica per eccellenza. La deduzione è sostanzialmente riconducibile all'inferenza logica per eccellenza, appunto, il modus ponendo ponens, che qui ho richiamato, e cioè, se possiamo dare per vero due formule, una formula alfa e una formula alfa implica beta, che come sappiamo, il concetto di implicazione che è qui rappresentato, altro non è che è un normale connettivo, non è da confondersi con l'implicazione intesa come conseguenza logica, sarebbe anche improprio considerarla come implicazione nel senso comune, per esempio implicazione causale, eccetera. Questo qui, questa alfa implica beta, è solo un altro modo per scrivere not alfa or beta. Comunque, la regola più importante che abbiamo visto fino ad ora di inferenza logica, che appunto l'abbiamo detta di deduzione logica, è il modus ponens, che dice che se sono vere alfa e not alfa or beta, allora necessariamente sarà vero anche beta. Questo necessariamente è in situa nel concetto di conseguenza logica. Abbiamo visto che una formula è conseguenza logica di altre, come in questo caso beta di alfa e alfa implica beta, se i modelli di questa formula, il conseguente beta, in questo caso sono l'insieme dei modelli del conseguente e un superinsieme dell'insieme dei modelli degli antecedenti. Ora, ovviamente non ci sarebbe bisogno di ricordarlo, se diamo per scontato che alfa e alfa implica beta sono vere, quindi andiamo a vedere quali sono i modelli che rendono vere entrambe queste formule, e qui l'ho richiamato in questo specchietto, nel caso di alfa sarebbero i modelli i1 e i2, nel caso di alfa implica beta i1, i3 e i4, e quindi i modelli che rendono vere sia alfa che alfa implica beta, l'insieme di questi modelli è costituito dall'unico modello i2, i1, e i1 è anche un modello per beta, perché l'insieme dei modelli di beta sono i1 e i3, e quindi i1 e i3 è un superinsieme di i1, e quindi beta, come sappiamo bene, è conseguenza logica delle due antecedenti, alfa e alfa che implica beta. Questa forma di inferenza è un'inferenza corretta, in questo senso, nel senso che la formula inferita è conseguenza logica delle formule che sono le premesse dell'inferenza, quindi diciamo che è corretta, però come faceva notare Bertrand Russell, ormai più di cento anni fa, è una forma di inferenza che in realtà gli uomini utilizzano molto raramente, solo in alcuni campi del sapere. Lui ricordava, a parte il theory improving, appunto la prova automatica di Toremi, che ovviamente era insita nella trattazione stessa che lui stava facendo, in altre forme del sapere, tipicamente la teologia e la giurisprudenza erano forme di sapere che potevano in qualche maniera ispirarsi e basarsi su questa forma di inferenza logica, in quanto che esse erano basate sull'esplicitazione di conoscenza, che era in qualche maniera vera, già a partire dai dogmi, nel caso della teologia, o dalle leggi del diritto, dal corpus iuris in qualche maniera, nel caso della giurisprudenza. Comunque sia, queste sono forme, dottrine in qualche maniera, in cui bisogna andare a esplicitare delle verità che sono già insite all'interno dei principi primi, cioè dei postulati primi su cui si basa il ragionamento. Ripeto, che possono essere dogmi nel caso della teologia o leggi nel caso della giurisprudenza. In questo senso, anzi nel senso precedente, quando noi dicevamo che la forma di inferenza in questione, la deduzione, è una forma di inferenza corretta, appunto intendevamo dire che l'insieme dei modelli della formula inferita è un superinsieme dell'insieme dei modelli delle formule da cui parte l'inferenza. Questo significa sostanzialmente che non abbiamo aumento di conoscenza, perché la conoscenza aumenta nella misura in cui diminuisce l'insieme dei modelli. In teoria avremmo una conoscenza perfetta, cioè quindi una conoscenza senza possibile ambiguità, solo nel caso in cui arriviamo a far sì che l'insieme dei modelli è un modello, considero un modello unico, dell'insieme di formule. Cioè, in sostanza, effettivamente, più formule mettiamo nel nostro insieme e più, in generale, questo lo vedremo anche in un successivo modulo didattico, la logica è monotonica, quindi più formule mettiamo nel nostro insieme di formule e tipicamente l'insieme dei modelli non potrà aumentare, ma potrà semmai diminuire. Nel caso in cui alle due promesse dell'inferenza alpha implica beta, aggiungiamo anche beta, essendo beta una conseguenza logica delle due promesse, l'insieme dei modelli non cambia, l'insieme dei modelli delle due promesse più la terza è il conseguente logico, sostanzialmente è lo stesso insieme di modelli delle due promesse, perché appunto il conseguente è una conseguenza logica delle due promesse. Quindi l'insieme dei modelli non cambia, non cambiando l'insieme dei modelli, cioè non diminuendo, non restringendosi l'insieme dei modelli, non abbiamo l'aumento della conoscenza. Questa presentazione del modus ponendo ponens è la presentazione classica. Se volessimo in qualche maniera estendere un pochino il senso del modus ponens da questa presentazione che fa uso dei concetti già puramente proposizionali, ai concetti in cui mettiamo in conto anche di poter esprimere lo stesso concetto in logica dei predicati, beh, la forma, il sillogismo più famoso nella storia del pensiero che si può facilmente ricondurre dal modus ponendo ponens esprimibile con logica e predicati è un sillogismo di questo tipo. se un certo soggetto è malato e sappiamo, perché c'è una teoria che dice che se un soggetto è malato allora presenta questo soggetto alcuni sintomi, beh, se questa è una regola assoluta così come questo quantificatore universale lascia capire, allora sicuramente quel soggetto presenterà quei sintomi. Quindi se è malato e se una malattia si manifesta attraverso certi sintomi quel soggetto manifesterà effettivamente questi sintomi. Questa è ovviamente un'altra interpretazione del sillogismo aristotelico. Aristotelio dice che se Socrate è mortale e se tutti gli uomini sono mortali allora anche Socrate è mortale. Semplicemente abbiamo cambiato il dominio. Dunque questa è la forma di inferenza per eccellenza è la deduzione ma non è l'unica. Un'altra, una seconda forma di inferenza che, logica, che appartiene alla storia del pensiero è la abduzione. La abduzione possiamo introdurla in questa maniera. Se io ho la medesima regola che da alfa fa implicare beta ma invece che alfa come premessa oltre alla regola stessa ho il conseguente dell'implicazione beta allora inferisco alfa. Bene, attenzione. questa forma di inferenza non è il modus tollendo tollens che pure è stato presentato in questo corso o qualche unità didattica fa perché il modus tollendo tollens era da not beta e alfa implica beta deriva not alfa. Questo modus tollendo tollens che si dimostra facilissimamente essere semplicemente un'altra applicazione del modus tollendo tollens quindi non è una nuova regola di inferenza ma esattamente quella di prima. Quella, il modus tollendo tollens che non è quella che stiamo vedendo qui è effettivamente una forma di inferenza logica corretta nel senso che se io ho alfa implica beta e ho not beta sicuramente devo avere anche not alfa perché not alfa è conseguenza logica di alfa implica beta e not beta ma se io ho alfa implica beta e beta non not beta non posso inferire alfa se lo faccio commetto un arbitrio infatti se andiamo a vedere alfa implica beta come abbiamo visto prima beta è verificata nei modelli i1, i3 e i4 beta è verificata nei modelli i1 e i3 e quindi abbiamo che l'intersezione fra questi due insiemi di modelli è dato proprio dai modelli di beta i1 e i3 e ovviamente i modelli di alfa che sono i1 e i2 non sono un superinsieme dei modelli dell'intersezione delle due che erano i1 e i3 cioè i1 e i2 non è un superinsieme di i1 e i3 e quindi alfa non è conseguenza logica delle due premesse quindi questa forma di inferenza logica non è corretta non è corretta ma il fatto che non sia corretta cioè che la conseguenza il conseguente non è conseguenza logica delle due premesse non significa che non sia una forma di inferenza molto usata dagli uomini e molto usata in tante discipline e come faceva rilevare appunto Russell a suo tempo in realtà questa forma di inferenza effettivamente è quella che sta alla base dell'acquisizione di una parte di conoscenza ed è usatissima nei sistemi di diagnosi nei sistemi che fanno diagnosi sia di sistemi naturali come per esempio la diagnosi medica o di sistemi artificiali come diagnosi di guardia di parti meccaniche motore elettroniche informatiche eccetera è anche la forma di inferenza che sta alla base dell'investigazione come vedremo del riconoscimento di intenzioni da parte di altri uomini e tante altre forme di inferenza questa inferenza aumenta la conoscenza perché? perché dal momento in cui io partendo dalle sole premesse beta e alfa implica beta assumo assumo alfa e quindi non inferisco in senso deduco alfa ma l'assumo e sto commettendo come dicevo prima un arbitrio però è un arbitrio in qualche maniera indotto dalle formule che stanno alla base del ragionamento che me lo in qualche maniera non dico che mi autorizzano a prendere per vero alfa perché non è vero alfa non è necessariamente vero sono vero le premesse però in qualche maniera mi inducono a farlo però dal momento in cui lo faccio e quindi aggiungo alle due premesse alfa implica beta e beta anche alfa a questo punto si restringe effettivamente l'insieme dei modelli perché se l'insieme dei modelli delle due promesse come abbiamo visto prima è costituito dai modelli i1 e i3 a questo punto se io ci metto anche alfa l'insieme dei modelli si restringe al solo modello i1 e quindi non ho più non ho più incertezze circa ciò che è vero e ciò che è falso nel mondo in questione semplicemente l'unico problema è che potrei essermi sbagliato nel senso che potrebbe non essere alfa una formula vera per poter meglio capire le applicazioni e l'utilizzo di questa forma di inferenza come abbiamo fatto prima può essere utile passare a una presentazione di questa forma di inferenza utilizzando logiche predicati che è più simile al nostro modo di ragionare della della logica proposizionale che è utilizzato per presentare l'abduzione in logiche predicati sostanzialmente il parallelo è presto fatto se un certo soggetto presenta certi sintomi e se abbiamo una teoria scientifica medica che dice che qualunque soggetto che abbia una certa malattia presenta quei sintomi allora io faccio l'ipotesi se sono un medico che effettivamente quel soggetto sia malato di quella malattia cioè dai sintomi si risale alle possibili cause dei sintomi questa è appunto il ragionamento diagnostico quindi l'abduzione sostanzialmente è la forma di inferenza classica che si utilizza nella diagnosi perché mi posso sbagliare mi posso sbagliare perché il sintomo potrebbe essere una malattia primaria quindi non necessariamente legabile ad altre malattie oppure a un'altra malattia oppure potrebbe essere legato ad altre malattie perché magari ci potrebbero essere altre malattie non esplicemente la malattia M che presenta la stessa sintomatologia e quindi in presenza di quella sintomatologia inferire che l'unica possibile malattia sia quella esplicitamente elencata in questa formula potrebbe essere non corretto perché come sappiamo bene una sintomatologia potrebbe essere comune a più possibili cause ecco perché l'abduzione è una forma di inferenza corretta e dicevo che può essere utilizzata anche in altri domini come per esempio l'investigazione ma spero di poter tornare su questo tema nella parte finale del corso o il riconoscimento delle intenzioni anche qui sono concetti avanzati l'intelligenza artificiale su cui mi piacerebbe insistere un po' nelle successivi moduli didattici però io adesso vorrei passare a chiudere questa unità didattica introducendo la terza ed ultima forma di inferenza logica classica che si distingue dalle due precedenti e viene detta induzione logica l'induzione logica la possiamo introdurre in questa maniera e cioè delle tre formule che stiamo utilizzando per rappresentare l'inferenza logica le due promesse nel caso dell'induzione potrebbero essere le due formule che non hanno il connettivo e cioè quindi non rappresentano in qualche maniera una correlazione fra fatti ma possono rappresentare dei fatti di pure e semplici fatti quindi io sostanzialmente vedo che è vero alfa vedo che è vero beta sospetto che ci possa essere un'implicazione fra questi due fatti e quindi inferisco alfa implica beta già nel momento in cui ho detto sospetto faccio capire che la forma di inferenza faccio credere che la forma di inferenza non è assoluta ed effettivamente questo è abbastanza intuibile però se in realtà andiamo a vedere il concetto di conseguenza logica e cerchiamo di capire se alfa implica beta è conseguenza logica delle due promesse e andiamo a vedere quindi quali sono gli insieme di modelli comuni alle due promesse e vediamo che alfa è vera in I1 e I2 beta è vera in I1 e I3 e quindi l'insieme di modelli comuni alle due promesse è costituito dall'unico modello I1 e in I1 la formula alfa implica beta è vera come d'altronde sarebbe vera anche la formula beta implica alfa ovviamente c'è un'arbitrarietà nel senso della freccia qui del connettivo di implicazione che abbiamo messo quindi potremmo dire che alfa implica beta o che beta implica alfa la cosa che potrebbe essere sorprendente è che alfa implica beta appunto è conseguenza logica di alfa e di beta questo è semplicemente conseguenza del fatto che questa implicazione qui non dobbiamo considerare l'implicazione come ho detto all'inizio l'implicazione logica e non la dobbiamo considerare essere un'implicazione causale o questo è solo un connettivo che sta per il not alfa or beta e quindi essendo vera beta sarà vera not alfa or beta di per sé non non si può dire che non sia corretta e quindi in questo senso non aumenta la conoscenza perché se noi diamo per scontato che sia vero anche alfa implica beta l'insieme di modelli rimane alterato cioè confinato all'unico modello i1 quindi in questo senso non aumenta la conoscenza però nel momento in cui noi andiamo a interpretare e questo è l'arbitro che noi esseri umani facciamo ma tutto sommato è un arbitrio che in qualche maniera è sopportabile nel senso che non è un errore concettabile lo è se lo andiamo a solutizzare ma come abbiamo fatto nel caso dell'abduzione tutto sommato se la diamo per per credibile questa forma di inferenza cioè non tanto la forma di inferenza che assolutamente è vera ma andiamo per credibile che all'implicazione possa corrispondere una qualche forma di connessione condizionale e quindi interpretiamo questa formula alfa implica beta come un if alfa then beta e quindi la prendiamo come una forma di teoria allora che cosa salta fuori salta fuori che questa forma di inferenza è molto interessante ed è usatissima dall'uomo perché sta alla base di qualunque forma di apprendimento compreso l'apprendimento che è in forma scientifica la teoria scientifica stessa nasce dalla constatazione che in presenza di un certo fenomeno ne corrisponde anche un altro e quindi se sempre quando si staccano le mele dall'albero le mele cadono a terra forse ci sarà un qualche collegamento fra i due fenomeni ed è proprio l'esplicitazione di questo collegamento che sta alla base dell'acquisizione di nuova forma di conoscenza quindi questa forma di inferenza logica è molto importante perché questa stessa non aumenta la conoscenza ma può essere utilizzata la formula così derivata per acquisire nuova conoscenza a partire da altre formule e cioè se io do per vero che alfa implica beta o la prossima volta che do per vero che alfa implica beta che vedo che c'è alfa anche se non vedo beta do per scontato che beta sia vero cioè quello che stiamo vedendo è che queste tre forme di inferenza possono collaborare all'interno possono coesistere all'interno del nostro agente artificiale intelligente e la seconda non è corretta l'abduzione però nella misura in cui la gente commette l'arbitrio di dar per vera la formula derivata allora effettivamente c'è un'acquisizione di conoscenza anche se la conoscenza può essere incerta la seconda è corretta semplicemente che quello che non è corretto è l'assunzione che ci sia una connessione causale o condizionale fa alfa e beta solo perché abbiamo interpretiamo questo connettivo come un connettivo di collegamento causale o condizionale è lì l'arbitrio è quello è l'arbitrio però noi l'agente intelligente può commettere quest'arbitrio nella misura in cui lo commette e poi utilizza questa formula per derivare altre formule utilizzando per esempio la deduzione o anche l'abduzione effettivamente andiamo in una condizione di incertezza però è una incertezza in qualche maniera giustificata per cui alcune delle inferenze che poi può fare l'agente artificiale possono essere davvero interessanti vedete quindi che l'induzione è quella è la forma di ragionamento che sta alla base dell'apprendimento mentre invece l'abduzione è alla base della diagnosi apprendimento nel caso dell'induzione perché apprendiamo le regole apprendiamo le regole che associano che associano alla presenza di una certa proprietà una certa proprietà a una certa relazione e un'altra proprietà a un'altra relazione quindi collegano fatti fra di loro questa forma di inferenza è alla base di qualunque tipo di apprendimento è alla base della formazione delle teorie scientifiche che poi dovranno ovviamente essere verificate nella pratica quindi il metodo sperimentale è alla base dell'emersione delle conoscenze quindi per esempio nel data mining dall'esame di grandi quantità di dati ogni qual volta vediamo che se è vera una certa proprietà una certa relazione non è vera anche un'altra possiamo supporre che ci sia una qualche correlazione e la correlazione la possiamo esprimere in questa maniera e spero di farvi vedere che questa è la base anche della sintesi automata però statisticamente l'abbiamo osservato da punto di vista epidemiologico perché nel data base erano sempre copresenti queste due proprietà e quindi abbiamo supposto che ci sia una correlazione poi dopo passeremo del tempo a capire meglio nel dettaglio nel senso proprio dell'approfondimento scientifico della cultura dell'argomento per quale motivo sono legate le due cose però intanto facciamo l'ipotesi che sono collegate quindi quell'epidemiologia ecco in generale noi passando all'oggi dei predicati potremmo dire che se vediamo che regolarmente quando c'è una persona che ha una certa malattia quella persona presenta anche questi sintomi effettivamente possiamo tirar fuori una regola che dice beh effettivamente allora chiunque sia malato in quella malattia presenterà questi sintomi e poi dopo la regola ripeto la potremmo utilizzare per fare dei ragionamenti o deduttivi o abduttivi in futuro quindi questa sostanzialmente questo è il ragionatore meccanico che non sbaglia mai questo è il medico che deve fare diagnosi questo è il ricercatore che il ricercatore in campo medico fa aumentare la la dottrina della medicina introducendo una nuova scoperta nel campo della medicina che poi dopo il medico utilizzerà per fare diagnosi bene allora questa era l'unità introduttiva al modulo dedicato all'abduzione e adesso possiamo parlare di abduzione cioè alla diagnosi però è un'unità introduttiva che introduce anche un successivo argomento che vedremo in un successivo modulo didattico che è l'apprendimento l'apprendimento è basato sull'induzione l'apprendimento automatico l'apprendimento delle macchine la diagnosi automatica la diagnosi delle macchine è basata sulla abduzione tutto il resto è basato in generale la pianificazione la ricerca nei spazi dei stati è basato sulla deduzione l'apprendimento